Parto dalla Basilicata, sono orgoglioso di quello che la Lega e il Centrodestra hanno fatto in questi cinque anni. Io di mio in questo anno e mezzo, con il Ministro dei Trasporti, sto investendo come non mai per sistemare le strade, le autostrade, le ferrovie in Basilicata. 3 miliardi solo sulla rete stradale e 10 miliardi sulla rete ferroviaria, la Tito Grienza, la Matera Ferrandina, la ferrovia che collega Potenza con il resto delle regioni del sud. C'è tanto da fare, però sono contento, quindi io penso che domenica l'uno di tanti Lucani voterà, immagino che il Centrodestra verrà confermato e ci sarà un ottimo risultato della Lega. Sono bello stanco che abbia girato la Lucania in lungo e in largo, però sono udente felice.